Siamo qua nella località di Leir con padre Peter della diocesi di Maralala a vedere il primo pozzo che Mos Mom ha costruito in questa zona nel 2007. Padre Peter ci stava dicendo che in questo momento il pozzo non è in uso perché è periodo delle piogge e quindi di acqua in giro ce n'è a volontà per queste popolazioni. Se no qua abbiamo la parte di posto che serve per accumulare l'acqua, quindi questa è la parte di posto dove le vacche si abbeverano. Invece qua alle mie spalle potete vedere le tanniche e all'interno di quella caseggiata c'è la zona in cui possono gli abitanti locali pompare l'acqua durante la stagione secca.